E' morto a 106 anni il regista portoghese Emanuele de Oliveira. Nella sua lunga carriera ci sono oltre 50 film. Nato nel 1908 a Uporto, iniziò quando c'era ancora il cinema muto nel 1931 con i primi documentari. Dopo il primo film nel 1942, Aniki Bobo, riscoperto e rivalutato nel 1961 al Festival di Cannes, per 20 anni non riuscì a portare a termine i suoi progetti, refrattario com'era al regime salazarista e si limitò ai cortometraggi. Negli anni 50 fece il primo film a colori mai girato in Portogallo, ma solo dagli anni 60 ebbe l'appoggio istituzionale necessario per poter dirigere. Nella sua carriera ci sono anche un arresto in piena dittatura di salazar e il set durante la rivoluzione dei Garofani del 25 aprile 1974. Dal 1980 iniziò una nuova fase creativa, tanti film, partecipazioni e premie ai Festival di Cannes, Venezia e Berlino, riconosciuto da tutti i tre grandi cineasti, con film come La Divina Commedia, La Lettera, Inquietudine e Viaggio all'inizio del mondo. Oliveira è entrato anche nel Guinness dei Primati come decano dei registi mondiali. L'ultimo film, il corto The Old Man of Belém, è del 2014 ed è stato presentato fuori concorso alla 71esima mostra del cinema di Venezia.